A Viterbo con il Monterosi il primo 0-0 della stagione, partita brutta, noiosa da Sbadigli, non aver preso gol magra, consolazione di fronte infatti a una squadra non proprio irresistibile, capace comunque di conquistare nelle ultime 11 gare tre punti in più del Pescara, ma il Monterosi occupa la quintultima posizione, pur vero però che in trasferta i Biancazzurri non subivano gol dalla trasferta di Foggia del girone di andata, 0-4. C'è anche da ricordare che quest'anno allo Stadio Rocchi l'11 di Menichini è perso solo contro la corazzata Catanzaro 1-0 e imposto il pari a Crotone e Foggia, pur tuttavia i problemi restano, inutile girarci intorno, non potevano essere spazzati via come d'incanto a pochi giorni dalla disastrosa prova con Foggia, ma legittimamente ci si aspettava di più. L'infido irregolare fondo del Comunale di Viterbo può giustificare, ma solo in parte, soprattutto perché il gioco non è stato mai un tratto distintivo dell'11 di Alberto Colombo. Inserire più punte non significa automaticamente creare occasioni. Se le giocate offensive, intese come schemi, latitano, tutto diventa più complicato. Le due o tre opportunità sono state figlie di un cross, di una iniziativa personale, Giabba, e di uno spunto individuale, assist di Rafiapr De Sogus. Anche in questo caso i numeri non mentono mai. Nelle ultime sette gare solo tre gol all'attivo, di cui due con un rigore regalato, segnati nella stessa partita, ovvero con Latina. Che il Pescara faccia fatica a costruire non è un mistero e non da ora. Ovviamente un punto è sempre meglio di nulla, ma per come è arrivato non può far fare salti di gioia. Intanto il Foggia, vittorioso sul Taranto 2-0, ha ridotto a cinque lunghezze il distacco dai Biancazzurri. Domenica prossima, ore 14.30, match casalingo con Potenza sconfitto in casa dall'Avellino, con Raffaele subentrato a Seviglia dopo dieci turni di campionato. I Lucani hanno perso solo tre volte in 14 giornate contro Catanzaro, Foggia e appunto Avellino. Fuori casa un successo a Monopoli 1-2 lo scorso 4 dicembre. 1-2-0!